Dopo la costituzione del fondo di garanzia e l'erogazione del microcredito alle piccole aziende siciliane, per finanziamenti pari a 500.000 euro che provengono dalla restituzione di parte degli stipendi dei 14 deputati del Movimento 5 Stelle dell'Assemblea regionale siciliana, i pentastellati siciliani hanno presentato una nuova iniziativa dal titolo Boom Polmoni Urbani. Si tratta di un concorso di idee che ha lo scopo di promuovere la creatività dei giovani siciliani, nuovi modelli di sviluppo urbano attraverso il finanziamento a fondo perduto di progetti finalizzati al recupero urbanistico dei centri storici dell'isola. A Palermo è andato il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Siamo qui per dire ai cittadini siciliani che abbiamo avuto il coraggio di mantenere le promesse, i soldi dei nostri stipendi sono andati e andranno in politiche per creare nuovi posti di lavoro, per migliorare il territorio, per riqualificare alcuni ambienti urbani. Quindi Di Maio ha aggiunto. I soldi in Italia ci sono. Il vero problema è che non si vogliono usare per aiutare le persone comuni, ma si usano per acquistare cacciabombardieri, fare grandi opere inutili, portare i militari verso l'Expo e metterli nelle grandi opere che in questo momento sono il centro delle corruttele italiane. Mose, Expo di Milano, ma anche Mafia Capitale, i soldi per i campi Rom.